Sì, perché non è una crisi determinata dalle materie prime o dal petrolio o dai conflitti internazionali, è una crisi forse di rilassamento un po' dei mercati, forse è una crisi dovuta perché c'è stata un'espansione drammatica all'interno del consumo, bisogna ritornare a una realtà di consumi normale, non eccessiva, a una realtà di credito normale da parte del sistema bancario, da parte delle imprese, da parte stessa e dei privati, in cui si faccia passo dalla propria gramba quanto sia sufficiente ad andare avanti, ma non oltre, ci deve essere un'iniezione di fiducia da parte di tutti. Non è mai una cosa auspicabile a una crisi, ma credo che per quella che è stata il boom economico e la rapida espansione della Zorara, che sia un momento necessario di riflessione in modo da poter ritornare a quello di cui parlavo prima, a questo valore aggiunto e quindi dirsi chi voglia fare impresa correttamente, che voglia fornire servizi correttamente, abbia la possibilità di andare avanti.